La nostra Erika mi decolerà la faccia come un'orto polare, no, come una civetta polare che è molto più l'estinzione dell'orto polare e fa molto più lento. Grazie! Ciao mamma! Ehi ho, let's go! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.